Buongiorno a tutti signori, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi parliamo di ricchezza globale. Andando appunto a spulciare il report Global Wealth del 2023, redatto da Banco OBS, che io utilizzo spesso questi report appunto di questa banca per capire un attimino a livello globale come si sta muovendo in questo caso l'Italia, ma anche tutti gli altri paesi. Diciamo che i report fatti da OBS, secondo me, sono molto molto interessanti. Noi andiamo direttamente, se non mi ricordo male, a pagina 16, eccoci qui, e andiamo a vedere la classifica globale dei paesi più ricchi del mondo praticamente, a livello pro capite, ok? Vediamo appunto che questa è una classifica della media del patrimonio in dollari, ok? Chiaramente questa è una tabella che non rende bene l'idea della ricchezza globale, perché appunto noi sappiamo che se noi prendiamo i soldi che ci sono in un paese e li dividiamo per il numero di cittadini che vivono in quel paese, chiaramente otteniamo sì una media, quindi una ricchezza pro capite, dove appunto vincono Svizzera e Stati Uniti e Hong Kong e Australia, ok? Però questo non ci dà una vera e propria indicazione del benessere di un paese, perché come potete immaginare, per esempio anche negli Stati Uniti, sapete che ci sono i miliardari da una parte e ci sono tanti poveri dall'altra, ok? Quindi questa in qualche modo è la classifica dei paesi più capitalisti a livello globale, no? In un certo senso. Ecco, vediamo appunto anche Canada, Singapore, Nuova Zelanda, sono tutti paesi, Olanda, ok? Francia, Regno Unito, sono tutti paesi comunque di tipo anglosassone in un certo senso, quindi paesi improntati al capitalismo, all'impresa, ok? All'investimento anche finanziario, tant'è vero che si dice, no? Che la finanza è anglosassone, ok? Di natura, infatti tutto quello che noi studiamo, impariamo sulla finanza arriva da Stati Uniti e Inghilterra alla fine, sono questi paesi più famosi a livello finanziario. Investimento fai da te. L'unico servizio in Italia che ti permette di investire in modo autonomo e professionale allo stesso tempo. Quindi se vuoi investire i tuoi risparmi senza il bisogno di un consulente, ma allo stesso tempo vuoi essere sicuro di fare la cosa giusta al momento giusto e di spremere i tuoi risparmi al 100% sei nel posto giusto. Diventa subito quindi un professionista della finanza al costo di un solo caffè al giorno. Visita il sito www.studiofeletocfa.it per scoprire i nostri abbonamenti e i nostri portafogli modello. Ti aspettiamo, iniziario. Tra l'altro vorrei farvi notare che in questa classifica l'Italia non compare nemmeno, anche la Spagna in realtà. Italia e Spagna non compaiono. Cosa vuol dire? Che sono paesi tendenzialmente poveri, ok? Quindi la media procapite della ricchezza in Italia e anche in Spagna sono molto basse. Io sono andato a vedere, praticamente l'Italia si trova al 22esimo posto in classifica, infatti vedete che appunto qui addirittura Israele, Austria, Irlanda, Taiwan ci battono, anche la Corea ci batte e noi siamo al 22esimo posto. Invece se noi andiamo a vedere la mediana della ricchezza globale, ok? Questa era la media, invece qui andiamo a vedere la mediana. Cosa ci dice la mediana? La mediana ci dà una sorta di punto di vista diverso per quanto riguarda invece la classificazione dei ceto medio della popolazione. Perché come abbiamo detto prima, se questa classifica ci dà in qualche modo la percezione della differenza tra ricchi e poveri in un certo senso, questa classifica invece ci dà un punto di vista del ceto medio della popolazione globale. Infatti vedete che qui, questa volta, Spagna e Italia compaiono in classifica rispettivamente al 14esimo e al 15esimo posto della classifica, ok? Con 107 mila dollari a testa. Vedete che questa volta gli Stati Uniti sono come l'Italia. Effettivamente hanno anche loro 107 mila dollari. Cosa vuol dire? Vuol dire che il ceto medio italiano dopo tutto non se la cava neanche male, no? Se la cava come Stati Uniti, se la cava come il Taiwan, se la cava come il Giappone. Addirittura meglio del Giappone siamo noi, no? Ecco, questo dà ancora una volta... Da questo punto di vista si capisce che l'Italia non è sicuramente un paese capitalista, non è un paese che è improntato all'imprenditoria, agli investimenti. L'Italia è un paese fatto da un ceto medio molto grande, molto sviluppato e è un paese anche, passatemi il termine, un po' più comunista rispetto agli altri. Tant'è vero che in Italia si preferisce utilizzare la risorsa pubblica, quindi i soldi pubblici, non per progredire e far progredire il paese, ma più che altro per attenuare tutto quello che è il ceto povero, ok? Quindi tramite dei sussidi, no? Pensiamo per esempio al reddito di cittadinanza, no? Per esempio, o alle pensioni pubbliche molto molto elevate, anche se chiaramente con la legge Fornero negli ultimi dieci anni sono state un pochettino ridimensionate, però dimostra essere appunto, insieme con la Spagna per esempio, dimostrano essere paesi un po' più comunisti, diciamo, ecco. Quindi non è né sbagliato né giusto, però ecco l'importante è avere una consapevolezza del paese in cui viviamo, ok? Ora la domanda è, ma scusa, ma perché l'Italia è così bassa in classifica? Quindi è qui al quindicesimo posto e qui addirittura non compare in classifica. Ve lo spiego subito. Andiamo in un'altra tabellina del World Report 2023, andiamo a vedere l'interesse composto tra il 2000 e il 2022 che c'è stato in questi paesi, ok? Praticamente le persone come utilizzano i soldi e quanto guadagnano dal proprio patrimonio, ok? Vedete che se noi ci concentriamo su questa tabellina vediamo che l'Italia purtroppo è l'ultima in classifica, ovviamente, con il 2,6% di guadagno sul proprio patrimonio, ok? Negli ultimi 22 anni. Vedete che il Giappone, 3,5%, è il penultimo paese praticamente. Quindi Italia e Giappone dimostrano essere paesi che purtroppo investono male i propri soldi, il proprio patrimonio. Diciamo che c'è una cultura finanziaria leggermente più bassa, ok? Rispetto ad altri paesi. Se noi andiamo a vedere i paesi tipo Svizzera, Stati Uniti, Inghilterra, o per tornare in Germania, per esempio, il 4,5%, vedete, in Francia addirittura il 5,2%, ok? In Australia il 6,1%. Vedete che tutti questi paesi, che sono i paesi più ricchi al mondo, comunque hanno un tasso di crescita composto. Vedete il Canada addirittura il 5,4%, molto interessante. Il Belgio 3,7%, un po' meno. Sono tutti paesi che comunque guadagnano il doppio dell'Italia. Cioè i cittadini a livello globale guadagnano più o meno il doppio degli italiani. Ma questo da cosa è dovuto negli ultimi 22 anni? Beh, semplicemente è dovuto da questa cosa qui. Cioè gli italiani utilizzano il proprio patrimonio soprattutto per le investire in abitazioni, ok? Quindi nelle case, no? L'italiano è amante del mattone, e investe circa il 50% a livello medio, chiaramente, in immobili, ok? Poi chiaramente ci sono anche tutte le altre cose. Però negli altri paesi non si utilizza questo stile di investimento, ma gli italiani appunto sono a livello globale, sono riconosciuti, ecco, per essere amanti del mattone. Qual è il problema? Il problema è che il mattone negli ultimi 10-12 anni ha radito le aspettative dell'italiano, perdendo a livello proprio reale circa il 30-35% del proprio valore, ok? Stessa cosa se noi andiamo a vedere il Giappone, per esempio, o giusto per farvi un esempio, vedete che il Giappone ha un tasso di crescita del 3,5%, che è comunque poco sopra l'Italia, ma è il peggiore di tutti i paesi ricchi. Il Giappone, stessa cosa, vedete che negli ultimi 30 anni, soprattutto negli ultimi 20, le case in Giappone hanno avuto un grande tracollo a livello di prezzo, no? Anche se ultimamente sono un pochettino salite e quindi questo, diciamo, ha fatto regredire tutto il paese e tutto il patrimonio nazionale, in questo caso giapponese. Vedete che negli ultimi 20 anni Italia e Giappone in realtà non sono molto diversi, vedete che sono abbastanza simili. L'unica differenza sono stati gli ultimi 5-10 anni, direi, dove le case in Italia hanno continuato a scendere, perché comunque i tassi di interesse europei negli ultimi 10 anni comunque sono circa, direi, l'1% di media, ok? Questo si parla di tasso variabile. Ovviamente sapete che in Cina, scusate, in Giappone, la situazione è completamente diversa. Infatti, praticamente negli ultimi 10 anni la media del tasso di interesse variabile è dello 0%, no? Quindi la differenza degli ultimi 10 anni e secondo me quindi anche della differenza fra questo 2,6 e questo 3,5 è proprio la differenza sui tassi di interesse che vanno a riflettersi sul patrimonio immobiliare, chiaramente, delle nazioni e che vanno appunto a riflettersi sulla situazione globale della ricchezza, ok? Dove appunto l'Italia, ricordiamoci, che è uno dei peggiori paesi al mondo, ok? Questa cosa deve farci riflettere, perché io so che molti di voi hanno delle case, per esempio, ereditate, magari hanno delle case che tengono chiuse, non vogliono affittare. Ecco, sappiate che tutte queste decisioni a livello patrimoniale, a livello strategico, non sono molto intelligenti, diciamo, perché con queste decisioni contribuiamo ad essere praticamente gli ultimi in classifica, ok? Questo non vuole essere una consulenza finanziaria, ma io vi dico, scusate un attimo, ma se oggi il BTP mi fa il 4,5 a 10 anni, vediamo quello a 20 anni, se non mi ricordo male, fa addirittura il 5%, eccolo qua, 4,93. Beh, se i BTP o comunque le obbligazioni, e quindi la parte finanziaria degli investimenti, no, la parte finanziaria mi fa senza troppi problemi, mi fa il 4,5%, ma perché io devo continuare a investire sulla casa, che senso ha? Non ha senso. Un portafoglio obbligazionario oggi vi fa tranquillamente più del 5% lordo, ok? Quindi più del 4% netto, quindi che senso ha investire sulla casa e accumulare immobili che comunque noi sappiamo già che nel medio termine continueranno a scendere, facendo scendere l'Italia in classifica, qual è il senso di tutto questo? Quindi ecco, io vi metto la pulce nell'orecchio, poi chiaramente ognuno di voi a casa propria dovrà prendere decisioni strategiche di questo tipo e capire se effettivamente vale la pena investire e credere ancora nel mattone piuttosto che switchare un attimino il patrimonio magari su una parte finanziaria, una parte anche un po' più liquida e un po' più diversificata per arricchire l'Italia e lasciare le future generazioni in una classifica, in una posizione in classifica che speriamo sia un po' più alta di quella attuale, ok? Io per questo video mi fermo qui, grazie per averlo visto fino alla fine, se ti è piaciuto lascia un mi piace, scrivimi nei commenti cosa ne pensi della situazione italiana e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!